no no tieni lo stesso soggetto no lì è già aperto quindi per così rugare si sposta mica ma se mi fai una cosa che mi piace è diventato insensibile no no se mi piace che mi frega non tocca più nessuno è meglio che tuvi te fai appunto quell'altra cosa ah proprio le trincee state preparando nonno nonno c'ha completamente il colorino io riperdevo la sangue sono andato appunto a soccorso alle 2 stanotte alle 2 ma non c'è l'uologo le faccio la carta per il mio non c'è l'uologo le faccio la carta per il mio